Oggi è la prima giornata qui a Napoli che è dedicata al controllo della temperatura durante gli interventi chirurgici in sala operatoria. Discuteremo soprattutto dei risultati che abbiamo ottenuto somministrando questo questionario ai nostri colleghi in tutta Italia, che fondamentalmente hanno evidenziato che se da una parte c'è una certa tendenza a riscaldare i pazienti durante l'intervento chirurgico, questo problema non viene vissuto in maniera così forte, per esempio nella fase che precede l'intervento chirurgico, sono solamente meno del 40% che riscaldano il paziente prima dell'intervento e un altro argomento che sembrerebbe poco sentito è quello del monitoraggio della temperatura durante l'intervento e soprattutto nella fase pre-operatoria dove non viene quasi mai fatto. Le motivazioni che sono venute fuori sono diverse, fondamentalmente però la motivazione più forte per cui spesso non c'è un attento monitoraggio della temperatura durante l'intervento è legata alla mancanza di dispositivi che siano adatti in tutte le situazioni in cui spesso noi ci dobbiamo confrontare durante i nostri interventi chirurgici nelle varie branche chirurgiche. Per esempio nei pazienti in anestesiaco corregionale spesso la maggioranza dei presidi che noi abbiamo, quelli rutinari, non sono adatti per un monitoraggio efficace della temperatura. Specificamente la regione campagna che è la realtà che sarà affrontata in maniera più attenta nella giornata di oggi è messa meglio forse rispetto ai dati nazionali per quanto riguarda il riscaldamento dei pazienti, è messa però un po' peggio rispetto ai dati nazionali per quanto riguarda il monitoraggio della temperatura. Cioè se da una parte c'è l'attenzione a riscaldare il paziente durante l'intervento dall'altra non sembra esserci lo stesso grado di attenzione per quanto riguarda il monitoraggio dell'andamento della temperatura durante l'intervento. Anche diciamo in Campania come nel resto d'Italia le motivazioni su una scarsa attenzione verso il monitoraggio di questo parametro sono legate fondamentalmente alla mancanza di presidi che siano sempre validi e sempre attendibili durante le varie chirurgie che noi svolgiamo. Lo scopo ovviamente di questo incontro sarà quello di trovare un punto comune fra tutti gli anestesisti rianimatori della Campania sia nella fase preoperatore che intraoperatore che postoperatore per i vari aspetti cioè sia per il monitoraggio sia per le misure più adatte a riscaldare i nostri pazienti. Ovviamente sarà anche un momento di sensibilizzazione verso chi ci dirige nei nostri ospedali per fare in modo che possiamo essere dotati dei sistemi migliori sia per quanto riguarda la fase del monitoraggio sia per quanto riguarda la fase del riscaldamento perché soprattutto nella fase intraoperatoria spesso alcuni sistemi di riscaldamento per esempio interferiscono con le attività del crisi pubblico quindi bisogna disporre di sistemi che siano facilmente utilizzabili perché solamente un facile utilizzo di questi sistemi permette un ruolo poi rapido sviluppo dal punto di vista della utilizzazione.